Cari Pellegrini, il 6 luglio del 1809 veniva rapito Pio VII da parte di Napoleone Bonaparte. Napoleone Bonaparte fece esiliare prima Pio VI, il quale Pio VI morì in esilio, e poi il suo successore Pio VII, il quale però poter rientrare a Roma perché poi sopraggiunse la sconfitta definitiva di Napoleone Bonaparte a Waterloo e quindi poi l'esilio di Napoleone sull'isola di Sant'Elena. Ebbene, indirettamente è legato al personaggio al Papa Pio VII un aneddoto, indirettamente, perché in realtà le parole che adesso andrò a ricordare furono pronunciate dal suo segretario di Stato Ercole Consalvi. Cioè si racconta che dinanzi alla volontà da parte di Napoleone Bonaparte di distruggere di fatto la Chiesa Cattolica, il cardinale Consalvi avrebbe risposto non ci siamo riusciti noi sacerdoti, noi preti, a distruggere la Chiesa Cattolica, figuriamoci se possa riuscirci Napoleone Bonaparte. Parole che sono di una verità inequivocabile, perché sappiamo bene che tutti coloro i quali hanno preteso combattere la Chiesa Cattolica e addirittura distruggere la Chiesa Cattolica, poi in realtà la Chiesa Cattolica ne ha celebrato i funerali, come si vuol dire. Nel senso che è impossibile di fatto distruggere la Chiesa Cattolica perché c'è una verità di fede inequivocabile che è la indefettibilità della Chiesa, cioè la Chiesa continuerà ad esistere fino alla fine dei tempi. Certo, noi non sappiamo da un punto di vista numerico, cioè da un punto di vista quantitativo, come sarà caratterizzata questa Chiesa, d'altronde c'è quella famosa espressione di nostro Signore Gesù Cristo che fa un po' rabbrividire quando Gesù dice quando il figlio dell'uomo tornerà sulla terra, troverà la fede sulla terra. Quindi noi non possiamo sapere quali saranno le dimensioni quantitative della Chiesa Cattolica, però di fatto la Chiesa Cattolica non finirà mai. La Chiesa Cattolica non potrà essere distrutta, non potrà essere distrutta né dai nemici esterni, né tantomeno dai nemici interni, cioè da coloro i quali, al di là delle intenzioni personali, di fatto cercano di rovinare, rovinare nel senso proprio letterale del termine, la Chiesa Cattolica, cioè di trasformarla in rovine. Ora vedete, la Chiesa Cattolica ovviamente è il mistero dell'unione del divino con l'umano, con tutta la fragilità dell'umano, con tutta la fragilità dell'umano. Ecco perché una delle immagini che secondo me possono essere più, possono maggiormente aiutarci a capire questo mistero della Chiesa Cattolica, è proprio l'immagine della Natività, cioè Gesù che nasce in una mangiatoia, Gesù che nasce in un luogo che ovviamente non è proprio deputato alla pulizia, né tantomeno è deputato al profumo, Gesù nasce in mezzo allo sterco e quando gli angeli andarono a chiamare i pastori per fare in modo che questi pastori potessero adorare il divino bambino, i pastori si inginocchiarono dinanzi allo splendore della divinità di quel bambino, non certo si inginocchiarono dinanzi allo sterco. Ecco, nella Chiesa esiste anche lo sterco, certo, ma lo sterco non va a pregiudicare la divinità della Chiesa. Ed ecco perché noi, al di là di tutte le difficoltà, al di là di tutte le situazioni che problematiche, estremamente problematiche che vive la Chiesa e soprattutto che vive la Chiesa attuale, io amo dire, ovviamente in questo caso è un'opinione personale per carità, che la crisi che sta attraversando la Chiesa cattolica oggi è la crisi più spaventosa che ci sia mai stata nella storia, perché precedentemente abbiamo soprattutto crisi di ordine disciplinare, oggi abbiamo proprio una crisi di ordine dottrinale, nel senso che vediamo proprio sommuovere totalmente quella che è l'impostazione dottrinale. Ora, al di là di tutto questo, al di là di tutto questo, bisogna amare la Chiesa, bisogna lavorare per la Chiesa, bisogna sacrificarsi per la Chiesa, bisogna dare la stessa personale vita per la Chiesa, la quale Chiesa, attenzione, questo è un punto molto importante, perché in questo momento così delicato ci possono essere tante tentazioni, tante tentazioni, la quale Chiesa deve rimanere nella sua struttura visibile, perché la Chiesa cattolica non è una realtà pneumatica, non è una realtà spirituale, non è una realtà che noi possiamo anche, come dire, modificare secondo le circostanze, e quindi possiamo immaginare una Chiesa cattolica che non abbia un Papa, che non abbia un Papa per tempi lunghissimi, o che addirittura al posto del Papa ci possa essere qualche altra cosa, no, niente di tutto questo. La Chiesa cattolica è una Chiesa che deve avere la sua visibilità ed è un'istituzione giuridicamente ben precisa. Noi dobbiamo amare la Chiesa cattolica nella sua integralità, dobbiamo amare la Chiesa cattolica a 360 gradi, tanto se questa Chiesa, diciamo, è perfettamente obbediente, conforme al nostro Signore Gesù Cristo, quanto se questa Chiesa eventualmente fosse invece in una situazione iperproblematica come quella attuale. Anzi, è proprio nei momenti di difficoltà che noi dobbiamo maggiormente confermare la nostra fedeltà alla Chiesa cattolica, il che non ci esime, anzi, tutt'altro, ad una legittima critica e nello stesso tempo anche a smarcarci eventualmente dal dover aderire a piani pastorali, a progetti pastorali che sono in chiara contraddizione, in chiara rottura con la verità cattolica e con l'insegnamento di sempre della Chiesa cattolica. Convinti del fatto, come disse il Cardinale Consalvi, che nessuno può distruggere la Chiesa, nessuno, tanto i nemici esterni quanto i nemici interni. Bene, cari pellegrini, terminiamo qui, ci diamo appuntamento al prossimo editoriale, vi saluto sempre caramente ricordandovi che Dio è verità.